A Mascali consiglio comunale aggiornato a stasera per decidere se istituire una commissione di inchiesta sulla situazione finanziaria del comune, in particolare sui rilievi della Corte dei Conti in merito ai conti consuntivi 2013 e 2014, che sono stati esposti ieri in aula dal revisore dei conti del comune mascalese Antonino Di Paola, che ha precisato come la situazione non possa essere definita critica. I rilievi nel 2012, ben prima dell'arrivo dei commissari, erano 22, oggi appena 5, ha spiegato Di Paola in aula ieri sera. L'amministrazione doveva essere messa al corrente molto prima a attaccato dall'opposizione Carmelo Caltabiano. Dopo la sospensione le forze politiche addivengono alla scelta del rinvio di 24 ore. Le minoranze, seppur con entusiasmi diversi, spingono perché la commissione di indagine si faccia. Situazione più complessa nella maggioranza. Il sindaco Luigi Messina già ieri sera avrebbe voluto un voto contrario alla proposta, o quantomeno un passaggio soft della delibera della Corte dei Conti in seconda commissione. Tuttavia Messina ha dovuto fare i conti con alcune resistenze da parte di pezzi della sua maggioranza, a cui non dispiacerebbe una commissione speciale che garantisse il civico consesso, specie in materia di debiti fuori bilancio. Poco prima della seduta aggiornata, questa sera, il sindaco Messina terrà un mini vertice con i suoi consiglieri della coalizione per decidere che linea seguire in aula.